La sua esperienza 2.0 con la maglia del Corato è partita con il piede pigiato sull'acceleratore, due gol in due partite, la firma sui quattro punti nelle casse neroverdi e la certezza di poter essere protagonista. Tocca a Daniel Cotello tracciare il bilancio di inizio stagione in casa Coratina. Alle spalle c'è l'1-1 sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie, frutto anche degli sprechi del Corato davanti al portiere avversario, compreso un calcio di rigore fallito da Pignataro. Vedendolo un po' così possono essere adesso persi ma non lo so se tutte le squadre andranno a vincere in quel campo, dopo perché hanno una bella squadra loro e fanno un bel calcio, dopo io contento per i due gol in due partite ma questo comunque aiuta diciamo tutta la squadra che uno possa realizzare il gol. Tornato a Corato tre anni dopo la prima esperienza in neroverde, Cotello spiega così negli studi di Telesveva, ospite di Super Mario Sport, la differenza tra la squadra che fu e quella che ha ritrovato. Ovviamente uno torna perché abbiamo un presidente come pochi in queste categorie, il presidente Maldera è una persona molto seria, molto squisita, quindi ho trovato una società molto diversa da tre anni fa perché loro hanno fatto degli errori e ora hanno capito quegli errori e ora cercano di fare sempre bene. Idee chiare anche quando si parla dell'obiettivo stagionale che coincide con il primato nel girone A, Cotello è sulla linea degli addetti ai lavori che vedono nel testa a testa con il Barletta, una costante del torneo di eccellenza. Io penso di sì perché noi puntiamo sia al campionato che alla Coppa, quindi avendo una rosa ampia si può fare bene. La prossima sfida è in calendario e in programma, in casa contro il Vieste, in crocio che ricorda l'unico trofeo assegnato sul campo nella scorsa stagione, la Coppa Italia direttanti pugliese vinta dal Corato. Sarà contro il Vieste una partita difficile, dura, però noi in casa non possiamo lasciare niente per la strada, quindi sarà una bella battaglia.